La giovanissima Giada Rumè di Palma di Montechiaro, residente con la famiglia Torino e una delle 30 finaliste del concorso Miss Italia, nelle pre-finali a Roma ha conquistato la giuria. Il sindaco di Palma, Stefano Castellino, esprime soddisfazione e invita i concittadini a sostenere Giada Rumè. Eccola! Ciao a tutti, mi chiamo Giada Rumè, ho 22 anni, vengo da Palma di Montechiaro, un paese in provincia di Agrigento e sono Miss Sicilia. Ogni giorno metto alla prova me stessa e la mia timidezza e ci sto riuscendo anche grazie al percorso di Miss Italia, che mi sta aiutando a credere di più in me. Il mio sogno è quello di poter entrare nel mondo della moda e dello spettacolo e la mia più grande passione è sempre stata il canto. Sono una ragazza autoironica, umile ed empatica e questo a volte mi rende anche fragile. Sono brava a sapere ascoltare le persone e a trasmettere tranquillità e fiducia, ma sono anche impaziente, testarda e a volte ingenua. Il mio prototipo di donna ideale è una donna leale, determinata e lavoratrice. Spero che un giorno si possa vivere senza ignoranza e inciviltà e che si possa esprimere il proprio pensiero senza ricevere giudizi altrui. Domani alle prefinali nazionali spero di poter rappresentare al meglio la mia terra in tutte le sue sfumature. Un in bocca al lupo a tutte le ragazze e un bacio!